È successo questa mattina nella sede della Fiege Borruso di via Gorganna Faenza. All'interno dell'azienda che si occupa di magazzinaggio e logistica industriale è scoppiata una rissa fra due operai di origini nordafricane che, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si sono messi le mani addosso. Una collega che ha assistito alla lite, agitata e spaventata che la situazione potesse degenerare, ha contattato immediatamente il 118, giunto sul luogo con un'autoambulanza e un'auto medicalizzata, e i carabinieri. Una volta sedata la rissa, in realtà, ai mezzi del 118 si sono rivelati superflui, poiché nessuno dei due operai aveva riportato gravi conseguenze e sono così rientrati all'ospedale di Faenza. Mentre sul posto sono rimasti gli uomini del 112 per capire cosa sia successo e perché. Grazie. 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 Grazie.